Partenza dell'Atalanta con Koppmaners che fa tutto da solo, molto bravo, dai vai con... Con Deron, con Deron, sì io mi sono fermato un po' nella cronaca perché credo ci sia il rigore del mio. Adesso poi andiamo ad escriverlo. Lo raccontiamo mai. Il rigore per il Milan batte Giroud, vai Gianni. Esatto, Giroud sulla pallone. Dai Montipò, non guarda al portiere, guarda per terra, ha preparato bene, ha postato bene il pallone lì in mezzo. Montipò saltella sulla linea. Giroud concentrato, guarda al portiere, fa una smorfia, pronto per partire, aspetta il fischio dell'arbitro. Tutti dietro la linea dell'area, come si deve stare se non viene andulato. Giroud ancora, parte, Giroud di sinistro, rete di Giroud. Gol! Oliviero va per vero, Giroud 1-0. Il vantaggio del Milan con Olivier Giroud sull'ultima azione del primo tempo. Milan in vantaggio sul Verona, questa la classifica di Serie A.